Sono anni. Chieviti la terra. Ti ho cercato non so quante volte per il tuo aiuto e hai costantemente deviato alla segreteria tutte le mie chiamate. Sì, ecco. Stavolta è diverso. Quanto sai sul tuo servizio di scorta? Che vuol dire quanto so su di loro? Fury. Dobbiamo stare molto attenti adesso. Non sei nelle condizioni di affrontare questa battaglia. È solamente l'inizio. Questa è la mia guerra. Solo mia. Sono l'ultima persona che rimane fra loro e quello che vogliono. E cosa vogliono? Lo que vogliono? Il paolo di cui vintra è direzione. Sì, ecco. Grazie per la visione!